Mi sono un carpentiere, i chiodi li pianto bene, ma parlare mica tanto. Posso dire solo che agli austriaci gliel'abbiamo fatta vedere. Hanno visto che razza siamo noi lombardi. Bene, bene, rovelli, bene. Modesto e coraggioso. E adesso... Ah, bene. E te? Chi sei, cittadino? Com'è il tuo nome? Beh? Cainazzo. Come? Cainazzo. Bravo, Cainazzo. Parla pure a voce più alta. Non aver paura. Tutti vogliono sentirti. Siamo tutti i tuoi amici. Allora, anche tu vuoi dare il tuo contributo di testimonianza alla rivoluzione? Allora, su, coraggio! Cosa dici al popolo? Beh, io vorrei dire... Parla! Di al popolo le tue imprese! Non temere, siamo qui per ascoltarti. Avanti, parla! Io ho idea che... Ho idea che ci han fregato. Sì. Sì. Loro, però, eh. Sì, sì. Eccoli qua. E ci hanno fregato? E come ci han fregato? Ci hanno fregato! 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 Grazie a tutti.